Un mozione di desconfianza tanto contro il ministro di insegnanza e deporte, il ministro Andy Cruz. Di come? Non ha chiamato il ministro del Parlamento per un caso che lamentab principalmente haato un luogo di un fondazione qui in Aruba per caratterizzare il subito per un caso di irregularità e per un investigazione andando in Arturo. Non ha chiamato il ministro per aver guardato il Parlamento, ma prezzo di un ministro della firma che non ha chiesto che non ha confesso il ministro per aver guardato il capo. però in tutto il caso ci sono tre motivi per il papel con la notte in confianza del ministro con l'ultato che il Parlamento ha chiamato tre viaggi in Occhiarabin il ministro explica con notte la verità il lavoro di chiamare per una fecha durante le vacanze il direttore della fondazione è stata con le vacanze e il ministro ha chiamato con il presidente della junta della fondazione e sa che ora ci sono una parola per la prossima e la prossima è una riunione a tutti i luoghi il primo motivo non è un motivo vallido è un motivo a equivocare il due motivo non è riferito a un caso che è un personaggio di Andi Cruz che è stata coinvolta con lui che 5 anni ha passato che è stata un'investigazione e è stata un caso che è stata un'investigazione di un altro giudano che è stata coinvolta in politica e è stata totalmente absolvita in un primo instante e in un'appellazione per più di 9 jueze independente e è stata un'investigazione che è stata un'investigazione che è stata un'investigazione in un'investigazione che è stata un'investigazione che è stata un'investigazione interna per un accountant non è stata un'investigazione dice, è stata un'investigazione che è stata un'investigazione quindi è stata un'investigazione che tutto il quattro della biazza non è corretto, ma ci sono che non hanno la maggioranza, non per passare una sconfianza, ma nella nostra constituzione della biazza, ora il ministro non ha la confianza più di parlamento e non ha il ritiro. Quindi, se è tutto un luogo, è di cruz, ora che non ha il ministro più, è stato un candidato attivo, è stato a partecipare nella prossima elezione, è un altro sospechoso, non ha il caso, non ha l'investigazione, non ha l'investigazione. Ci sono un rinno del parlamento, e non ha l'importante, per farlo un rinno, per farlo corretto. E mi sono state, nel nostro parlamento non c'è ancora una persona che si chiama Benny Zvenger, una persona che ora è condenata per corruzione, e ha due instanze che si accade, che è una prima instanza, è in corto di appellazione, e c'è un castigo di 4 anni per aspettare, è la baicazione, naturalmente, e poi guarda, se è che da clare, ma per un rinno di bene, è un rinno di donna, su voce determinante, per quinta un rinno, ma non è ande, quasi lo corretto, ma ti vedo che del mondo arriva su come. No, nel caso di Andy è tribalista, e poi, Simplemente ci sono gente che al lato un dia avisa che paghè, non sta paghè. Por certo, la gazzacca non è venuto per me, e per me un altro collega non tambe, mi metto qui, non è preparato, e dice basta fuertemente. E per Glamer Cruz non è rivalista, è stata per sobra che tu sei sospechoso, e noi di partito del Movimento Electoral del Pueblo ti un regla, così un personaggio sospechoso e non porta parte di nos lista tampoco. E ora qui tenta reemplazare? E due ministri, no? Glamer Cruz è stata per la maniera di giustizia del asunto sociale Rocco Chong, e la cartera di Andy Cruz è stata temporale per me, per me, come noi stai ripartirei esati. E' un'altra cosa che non è conto, perché esati in un periodo di missionario, e è complicato, quindi non è possibile entrare in esati più o meno che è possibile.